E' di 2.850.000 euro l'investimento effettuato dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna per adeguare gli scari del nord ai migliori standard di sicurezza con controlli più snelli, capillari, efficaci e a riparo dagli agenti atmosferici. Da questa settimana infatti entrano in funzione le nuove apparecchiature posizionate sotto le tendo strutture mobili installate nei porti di Porto Torres, Olbi e Golfaranci che vanno a integrare i sistemi di controllo già operativi. A Porto Torres che per la sua ampia estensione ha richiesto un investimento di circa 1.800.000 euro le nuove 13 postazioni ospitano 11 apparecchi radiogeni per il controllo bagagli 19 metal detector per i controlli sui passeggeri, 6 rilevatori di esplosivi 4 dispositivi con telecamera integrata per il controllo dei sottoscocca nei mezzi di imbarco 6 telecamere sonda portatili ed un impianto ricetrasmittente che gestirà 28 apparecchi radio. Le stesse apparecchiature sono state installate anche nelle strutture del porto dell'Isola Bianca di Olbia con una spesa di 740.000 euro e nelle due di Golfaranci per un ammontare di 285.000 euro interventi ai quali si aggiungerà entro l'estate il riadeguamento delle misure di sicurezza nello scalo di Santa Teresa con un finanziamento di circa 500.000 euro. Grazie. Grazie. Grazie.